Sopriamo il dibattito con l'onorevole Kella per un minuto e trenta. Il sottopo il cipriamo il sottopo il sottopo il sottopo il norevole. Il sottopo il risotto di questi problemi sarà molto beneficio per la Turchia e i cittadini. Il processo di accessione è un'importante incentivo per la cambi e la riforma in Turchia, anche per la trenta. Ma questo sarà solo un incentivo, per quanto riguarda il nostro obiettivo per la Turchia, per quanto riguarda il Criteria di Copenhegiano, come abbiamo fatto anche con altri paesi. Il nostro più importante tool per la cambi e la riforma è l'accessione di negoziazioni. Non è vero che siamo deprimati di questo tool per non ottenere i capi sui sottopo il sottopo, sui sottopo il sottopo, in cui molti problemi che ho già parlato, sono entusi introdotti. Quindi, bisogna aprire in quanto riguarda le vostre propriegie. E poi, bisogna писare il nostro amore di alberço di Turchia, a causa di questi problemi. E, per esempio, início ai capiti di 23 e 24, e aprire in quanto riguarda Türkiye nella Cielo, in quanto riguarda i criteri, se è curi. Grazie mille.